La festa dello sport con la scuola di Manopello collaborano i sindaci di Manopello, Letto Manopello e Serra Monacesca. Sono oltre 200 ragazzi pronti a queste proie, a sfidarsi, ma soprattutto in un momento di solidarietà, di gruppo, dove effettivamente si riscoprono tanti valori tra gli stessi ragazzi. Uno degli scopi dell'associazione è quello di vederli uniti e dare un sostegno per quello che possiamo fare a far sì che queste manifestazioni, questi momenti si possano verificare tante e tante altre volte. Siamo qui a Letto Manopello nel campo sportivo dello stadio comunale di Letto Manopello e oggi assistiamo alla bellissima giornata e alla festa dello sport. Tutti i ragazzi sono più presenti, hanno partecipato alle varie iniziative che hanno indicato i nostri insegnanti, gli insegnanti sia dell'educazione fisica ma anche degli altri insegnanti di altre materie. Insomma, ci siamo riuniti qui a Letto Manopello per poter parlare di sport, per praticare sport, per fare anche competizione, ma nello stesso tempo fare gruppo, fare unione, stare tutti insieme che poi sono le parti essenziali della condizione dello sport in senso generale. Quindi siamo veramente contenti come amministratori qui delle nostre comunità. Qui vicino a me c'è anche l'assessore di Manopello, l'assessore Conte, l'assessore Giulia dell'Ellis. Ci sono anche i rappresentanti del comune di Serra Monacesca. Insomma, tutto l'istituto comprensivo è presente, sia dal punto di vista scolastico e anche dal punto di vista amministrativo. E in più ci sono tutte le associazioni che hanno collaborato. Questa giornata dello sport è importante per il territorio perché finalmente la scuola riapre. La partecipazione di tutta la cittadinanza, quindi coinvolge gli alunni, i genitori, le autorità locali, amministrative a celebrare quelli che sono i valori dell'inclusione, del rispetto, del fire play e del rispetto dell'ambiente. Grazie chiaramente al comune di Letto Manopello che ci ospita in questa bellissima iniziativa. Io ho trovato un clima particolarmente gioioso e favorevole. Mi sono tornati in mente i momenti in cui partecipavo io alla giornata dello sport. E quindi dopo tanti anni di fermo siamo veramente orgogliosi che questa tradizione possa ricominciare. Devo dire che con oggi è ricominciata nel migliore dei modi. Stiamo accogliendo 250 ragazzi provenienti dall'Istituto Comprensivo di Manopello che aggrega Letto Manopello, Manopello e Serra Monacesca. Lo sport che lancia il messaggio di aggregazione, di abbattimento di ogni barriera sociale.